Certamente 30 minuti non sono qualche minuto, questo è vero, però voglio dire una cosa che effettivamente voi avete fatto una cosa in questi 30 minuti, avete atteso, e vi ricordate quando abbiamo parlato della liturgia, abbiamo parlato dell'Avvento, accennammo all'Avvento, l'attesa è la caratteristica tipica del cristiano, il cristiano vive di attesa, noi viviamo nell'attesa della beata speranza e quindi questi momenti effettivamente non è per giustificarmi nel modo più assoluto, però come diceva Don Ernesto diventa un'occasione per noi, diventa un'occasione e poi anche se non riusciamo a farlo, che volta per forza, tra virgolette, ci troviamo in certe situazioni dove dobbiamo attendere, però con una differenza, un conto è quando attendo l'autobus che deve venire, un conto è quando attendo dal medico il mio turno, un conto è l'attesa del Signore, perché già quell'attesa è carica di una presenza, noi attendiamo colui che è presente, ricordate la volta scorsa lo vedemmo, no? Venne Gesù, chi è Gesù? Colui che viene, il veniente, è stette in mezzo, abbiamo ascoltato poi nel giorno di Pentecoste c'è stato riproposto il Vangelo di Pasqua, bellissimo, no? Per dire Pasqua Pentecoste il mistero è quello, e quindi chi è questo Gesù? Quello che è sempre in mezzo a noi, è solo che abbiamo bisogno anche attraverso l'attesa di poter riscoprire questa presenza in mezzo a noi, che stiamo vedendo, mai dare per scontato questa presenza. Perché nel momento in cui noi diamo per scontato questa presenza, oppure di poterla possedere, in quel momento non la possediamo più, in quel momento poi c'è scappata dalle mani. Vedete, c'è un gioco che si fa fare generalmente ai bambini, dice prendi la sabbia e stringi la forte forte con le mani. Stringendola forte forte con le mani, sapete che succede? Che la sabbia scappa, esce fuori. Se tu la sabbia la tieni con la mano aperta, la sabbia ti resta sulla mano. E così anche noi facciamo attenzione a non poter mai ipotizzare o presumere di io possego il Signore. Perché quest'atto è proprio di possesso. Ricordate Adamo, Eva, stese la mano per prendere, per possedere quel frutto e tutto quello che poi non sappiamo di seguito. Va bene. Andiamo avanti con il nostro brano e questa sera dovremmo chiudere con i Vangeli e degli apparizioni. O meglio, non tanto, scusate, non delle apparizioni, ma delle manifestazioni del risorto insieme alla sua comunità. E leggiamo il foglio che adesso Antonio vi dà. Quindi non solo ho fatto tardi io, ma pure Don Antonio ha fatto tardi. Grazie. 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 E' il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Quindi stiamo alla fine proprio del Vangelo. Quindi è proprio la fine. Lasciamo stare tutta la questione. Molti studiosi dicono che il Vangelo di Giovanni finiva con il capitolo 20. Quindi questa è un'aggiunta a questo capitolo 21. Perché di nuovo si riparla della manifestazione del risorto. E sembra quasi che tutto ciò che abbiamo ascoltato fino al capitolo 20 come se non fosse presente nel capitolo 21. Perché di nuovo si riparla di Pietro con gli altri discepoli. E' come se questo Gesù non l'avessero proprio incontrato nel giorno poi di Pasqua. Però lasciamo stare questa questione qui. Il capitolo 21 segue il capitolo 20 e noi abbiamo fatto il capitolo 20 e quindi seguiamo adesso il capitolo 21. E dice così. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Tiberiade. Allora tenete presente. Gerusalemme è al sud. Tiberiade è a Galilea e al nord. E quindi Gesù muore a Gerusalemme. Quindi siamo nel sud. Viene lì messo nel sepolcro. Si manifesta. Però vi ricordate Gesù dirà alle donne andate a dire ai miei discepoli che mi precedono in Galilea. La mi vedranno. Galilea dove si trova in Galilea. Quindi stiamo al nord. E allora si trovano lì perché hanno ricevuto il fatto che erano detto le donne di trovarsi poi andare sopra in Galilea dove vedranno il Signore. Dice. Non lo sappiamo. Comunque si trovano lì. Quando sono andati lì? Sette a virgolette il giorno prima si trovavano ancora lì a Gerusalemme. Dopo la situazione di Tommaso. Vi ricordate? Lì nel Cenacolo. E quindi noi lì l'abbiamo lasciati. Che Tommaso non c'era. Poi otto giorni dopo arriva di nuovo e c'è anche Tommaso. Quindi l'abbiamo lasciati lì dentro nel Cenacolo. Quindi dopo questi fatti, se leggiamo i testi, dopo i fatti del Cenacolo con Tommaso si trovano lì al lago di Tiberiade. E Gesù si manifesta di nuovo. Attenzione a questo fatto. Gesù si manifesta continuamente. E il suo manifestarsi è sempre un manifestarsi diverso da quello precedente. Abbiamo visto a Maria di Magadra si manifesta in un modo. A Pietro e a Giovanni si manifesta in un altro modo. A Tommaso si manifesta in un altro modo. A due di Emma si manifesta in un altro modo. E se noi ci chiediamo quanti ne siamo qui, ognuno di noi si manifesta in modo diverso. Quindi non classifichiamo mai il modo, o meglio, un modo di manifestarsi di Gesù. Perché se noi classifichiamo quel modo lì, il rischio, sapete qual è la fine che noi possiamo dire? Ma io così non l'ho visto. E siccome io poi mi intestardisco nel trovarlo, nel riconoscerlo in quel modo lì, siccome in quel modo lì non sarà, io non lo riconoscerò. Se vi ricordate l'ultimo incontro, Don Ernesto qui disse una cosa molto bella. Qualche volta noi vogliamo imitare una spiritualità di un santo, no? Dici ma io vorrei essere come Padre Pio. Ma io non sono Padre Pio. Io sono Maurizio, non Padre Pio. E quindi l'incontro con il Signore non è lo stesso che ha avuto Padre Pio, ma è mediato dalla mia umanità, è mediato dal mio cammino di formazione, è mediato anche dal mio stato di peccato, è anche da quello di grazia, è da quello che sono io, non da quello che era Padre Pio. E quindi da quello che sono io, in quello che sono io, il Signore lì poi si manifesta di nuovo a me, in una modalità diversa che io posso comprendere. Perché se io non la posso comprendere, il Signore si può manifestare quando vuole, ma se io non lo comprendo, a che serve che Lui si sia manifestato? Li trovate? Vi ricordate quando parliamo dei gesti, segni, le mediazioni per comunicare? Se viene a parlare un giapponese qui e ci parla di Dio, ma ci parla in giapponese, con tutta la buona volontà, ci potete dire pure una bella cosa di Dio, ma noi non lo capiremmo. E ha presso tempo Lui, ma ha presso tempo anche noi, se Lui ci parla in giapponese. C'è bisogno di un linguaggio che può essere comune a Lui e a noi, noi lo possiamo capire. Allora quella cosa bella è che ci dice poi ne posso fare esperienza. Quindi Dio si manifesta nel modo attraverso il quale io lo posso comprendere. Sia chiaro questo. In modo incomprensibile Dio non si rivela. Domenica celebreremo la Trinità. Attenzione a non andare alla Trinità con questa. Andiamo alla Trinità con questo, perché se andiamo con questa noi non capiremo. Se andiamo con questo capiamo. Si manifestò i nuovi discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Vedete, quindi si manifestò così e spiega il modo in cui si è manifestato ai discepoli. Ancora una volta capiremo che non è per niente chiaro questo suo manifestarsi e questo suo poi riconoscere la manifestazione. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. c'è una bella notazione. Si trovavano insieme. Sono sette. E gli altri cinque, boh, sono sette. Però stavano insieme questi sette. Ancora una volta è forte l'esperienza della comunità. L'esperienza della comunione. Perché Gesù è vero che li ha chiamati singolarmente, ma li ha chiamati affinché si estero insieme. La fede, vedete, è un atto personale ma che viene manifestato e espresso all'interno di una comunità. Non esiste la fede senza la comunità. Il fonte battesimale sta giù. Noi abbiamo riuscito il battesimo lì. Quel fonte esiste lì perché c'è una comunità che esprime la fede. E in quel fonte c'è nella fede della comunità che noi siamo stati battizzati. Infatti a noi bambini che non abbiamo detto credo rinuncio. Il sacerdote ha detto è per la vostra fede ai genitori e ai padrini che rappresentano la Chiesa che il bambino viene battizzato. Infatti dice in forza della vostra fede fate la vostra professione di fede. In questa fede il bambino viene battizzato. Come dire, pure se viene, prendiamo un bambino giapponese, oggi parliamo col Giappone. Pure se noi adottiamo un bambino giapponese. Se nella mia famiglia parliamo sempre l'italiano, il bambino comprenderà e imparerà l'italiano perché crescerà nel linguaggio italiano. Il battezzato cresce nel linguaggio della fede di una comunità particolare. Attenzione, pure questo è importante. Perché per certi aspetti il vivere la fede della comunità di Cassandrino è diverso da vivere la fede della comunità di Milano. Nelle espressioni. Anche se il Signore quello è. Quindi si trovavano insieme. E Simon Pietro, e Simon Pietro, e Tommaso, e Tonito, Natanael, e Canegale, disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Vi ricordate qualcosa questo fatto? Simon Pietro, vi ricordate che misteri faceva? Pescatore. E quando Gesù lo chiamò a pericolare cosa fece? Lascia tutto e lo seguì. E com'è che muovo a pescare? Va a pescare con che cosa? Si aveva lasciato tutto per seguirlo. Probabilmente, forse non aveva lasciato proprio niente, probabilmente. O se aveva lasciato, aveva lasciato in un modo forse che noi non dovremmo intendere o capire come vogliamo pensare noi. Forse aveva lasciato nel senso che ciò che faceva prima non gli era di impedimento per seguire il Signore. Forse. Perché vedete, noi molte volte siamo presi dalle cose e lo diciamo, o lo sentiamo dire. Eh, beate a te che hai tenuto tempo per andare dal Signore, magari potessi andarci anch'io se avessi del tempo. E poi vai a chiedere, ma perché che cosa fai? Allora capite, non è un lasciare materiale, ma è una libertà del cuore, interiore. Perché effettivamente io posso avere anche tutto. Ma se quel tutto mi diventa un ostacolo per poter seguire il Signore, come anche potrei avere anche niente, ma anche il niente potrebbe essere un ostacolo per seguire il Signore. Prata a pensare, a che cosa siamo legati? Che cosa ci lega? E' il Vangelo di oggi, no? Qual è il più grande dei comandamenti? Amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Vedete, con tutto c'è, è la totalità. Non con una parte del cuore o una parte della mente. Part time. Io vado a pescare. Ed è bello perché, vedete ancora una volta, chi prende l'iniziativa è sempre Simon Pietro. Io vado a pescare. Se riusciamo a cogliere questa frase che dice Simon Pietro, tenete presente quel rammarico, quella difficoltà di Simon Pietro, no? Ne dire, io vado a pescare, vabbè, ritorno a fare quello che facevo prima. Perché di questo Gesù di Nazareth, che ne sappiamo? E a me, tornando a pescare, mi garantisco qualcosa per sostenermi. Perché se prima era lui ciò che ci sosteneva, siccome adesso non ne sappiamo, vado a pescare. E quindi un vado a pescare è una sorta, direi, quasi di fallimento, di sconfitta. Come i due di Emmaus, se vi ricordate. Sono passati tre giorni, successe, o Maria di Magadar che va a piangere a sepolcro. È una sorta di disperazione. È un ripiegarsi su se stessi. E gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Nel Vangelo di Luca, se vi ricordate, proprio quando c'era la chiamata di Simon Pietro, c'è la stessa scena. Quella notte non presero nulla. Ritorna la notte, vi ricordate? Giuda uscì ed era notte. Maria di Magadar, di notte al mattino, quando era ancora buio. C'è sempre questa realtà della notte. E la notte, lo abbiamo detto anche la volta scorsa, la notte comunque fa capire una cosa, che sta per arrivare il giorno. Non è ancora il giorno, ma il giorno sta per arrivare. Però voi lo sapete che la notte è sempre più lunga. Quando a volte non ci sentiamo bene, ci svegliamo di notte, non passa mai. Quando stiamo bene e stiamo dormendo, subito passa. Mamma mia, adesso fate le sei e mezzo. Ma quando non ci sentiamo bene, mamma mia, ti pare il messone che ti svegli in cinque minuti. La notte è proprio interminabile. Quindi, quella notte, quella notte non presero nulla. Cioè, questa notte interminabile, senza il Maestro, non prendono nulla. Però attenzione, c'è un'altra cosa. Qui è Simone che dice, io vado a pescare. Non è stato mandato a pescare, perché Gesù aveva detto, io ti farò pescatore di uomini. Quindi non è mandato Simone. È lui di sua iniziativa che sta andando. E vi ricordate, c'è un altro passo dove Simone, di sua iniziativa, dirà vicino a Gesù una cosa. Signore, questo non ti accadrà mai. Gesù come lo chiamerà? Satana. Va dietro a me, non davanti a me. Simon Pietro adesso si sta mettendo davanti ai compagni. È vero, non ha detto venite con me, però ha detto io vado a pescare, quindi è lui che si viene davanti. Quella notte, in quella lunga notte, senza il Maestro, senza il comando del Maestro, non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Attenzione, non ha detto il testo Gesù apparve. Gesù stette sulla riva. Stava sempre lì. Stette sulla riva. Fino in quel momento, evidentemente, erano così presi dalla pesca, che non sono girati per vedere lì sulla riva. Perché molto succede, anche noi siamo così presi da qualcosa, che non vediamo altre situazioni. L'abbiamo detto tantissime volte, no, quante volte, non ti ho proprio visto, scusi, mi ero preso dai miei pensieri che non ti ho visto. C'era qualcosa qui nel loro cuore, che erano così presi, e non hanno visto che Gesù stette sulla riva, stava lì sulla riva. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Attenzione, perché qui, perché dopo, più avanti, ci fa un altro passaggio, questo non si erano accorti, sapete cosa dice non accoggesi? Dice un'ignoranza. Cioè, ignorano la presenza del Maestro sulla riva. Sono ignoranti nel riconoscere la presenza del Maestro. Pensate un po' a quando noi siamo saccenti, no? Quando abbiamo l'impressione di sapere tutto di Gesù. E di saperlo sempre spiegare agli altri. E mai a noi stessi. Bravi maestri, ma non buoni testimoni. E questo è frutto dell'ignoranza. Ricordate, lo dicevo, proprio quando iniziamo questi incontri sulla strada scrittura, San Girolamo, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Gesù Cristo. Ricordate l'improvero che Gesù ha fatto ai due di Diemos, stolti e lenti nel cuore, nel credere alla parola dei profeti. Non doveva il Cristo patire per entrare nella sua gloria. Il problema di qual era? La loro stoltezza nell'ignorare le scritture. Ricordate Giovanni e Pietro, quando Giovanni iniziò, iniziò a comprendere la scrittura. Non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figliori, non avete nulla da mangiare. Ricordate il discorso che Gesù fa con Maria di Magda, donna, perché piangi? E quindi c'è questa attenzione. Loro non sono attenti a Gesù, che sta sulla riva, quest'uomo che sta sulla riva, perché non si erano accorti. Gesù però è attento a loro. Però vedete, l'attenzione di Gesù, stranamente, adesso è di provo, che è in modo particolare, perché Gesù non dice, non avete preso nulla, come mi dispiace. Gesù, quasi come se pensasse a se stesso, non avete nulla da mangiare. Guardate, questa è una cosa un po' particolare. Perché questo Gesù, che noi immaginiamo sempre, che è lui che debba soddisfare i nostri bisogni, è bene lui che chiede che un bisogno sia soddisfatto. Vi ricordate la Samaritana chiederà da bere? Però vi ricordate il meccanismo che legge Gesù in genera con la Samaritana? Gesù chiede da bere per farle comprendere che lui le darà da bere. Qui Gesù chiede da mangiare per far capire che lui è il cibo. Come la donna fa capire se tu conoscessi chi è che ti chiedeva a bere, tu stessi che ne avresti chiesto. E quindi Gesù qui sta provocando, mettendo in modo qualcosa nel cuore dei discevoli. Quindi attenzione, quando c'è il bisogno che manca qualcosa, attenzione che fosse quello il momento dove ci è chiesto una crescita. Le crisi sono occasioni di crescita, da quella umana a quella spirituale. Però dobbiamo essere bravi a cogliere le provocazioni delle crisi. Perché se vedo la crisi, solo lo posso buttarmi giù, non è un momento di crescita, ma sarà un'ulteriore depressione. Perché qui, naturale, no? Ma come io tengo fame così, non vedi niente e tu mi chiedi da mangiare. Ma avrei mandato da quel paese e l'ho mandato. E invece evidentemente sta dicendo qualche passaggio, devono ancora, lo possono ancora fare. Proprio attraverso quella realtà di cui loro maggiormente hanno bisogno, mangiare. Perché non hanno preso nulla quella notte. Gli risposero no, non abbiamo nulla da mangiare. Allora gli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Attenzione pure qui, perché ci sono semplicemente pescate. C'è una cosa particolare che Gesù chiede, no? Alla parte destra della barca. Fateci caso, tantissime volte Gesù, quando vede le cose, chiedendo un certo ordine, quando moltiplicherai i panni a capitolo 6 nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto dirà così, fateli sedere per terra in gruppi ordinati. E dice il testo, si sedettero in gruppi di 100 e di 50, in modo ordinato. Molto volte penso alle nostre celebrazioni, se sono ordinate o sono disordinate. La parte destra, perché la parte destra? Se voi ricordate, grazie a Dio adesso non lo si fa più, però ricordate che quando una volta, quando c'erano i mancini a scuola, gli insegnanti, molte volte capitavano, collegavano la mano sinistra per farli sforzare a scrivere con la mano destra. Era una violenza, perché il mancino, la mano sinistra è la mano del diavolo, vi ricordate? No. E la mano destra invece era quella buona. Perché era il mancino o peraltro. Nella mentalità biblica, la destra è considerata il segno della benedizione. Quindi il lato destro è il segno della benedizione. Vi ricordate nel capitolo 25 di Matteo, quando dice il pastore separerà le pecore dalle capre? Porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Dirà a quella alla sua destra, venite benedetti. Dirà a quella a sinistra, via da me, lontano maledetti. Quindi la destra è il luogo della benedizione. Ora, la città della destra della barca è il luogo dove c'è benedizione. Però vedete, pure qui c'è bisogno di dirlo. C'è bisogno di dire quelle realtà che diano benedizione. Perché Simon Pietro è un ebreo, quindi questo lo comprende. Noi questo non lo comprendiamo perché non siamo ebrei. Allora abbiamo bisogno di esplicitare la benedizione. Abbiamo bisogno di dire bene e non darlo per scontato. E ripeto, sarà ancora più chiaro dopo, qui non c'è ancora nessun rimprovero del risorto nei confronti di qualcuno che non lo sta riconoscendo. Perché noi come minimo abbiamo detto, ma come non mi riconosci? Come minimo proprio. Ma non mi riconosci? Invece no, ripeto, c'è questo aiutarli, questo aiutarli in questo venire dal buio alla luce, dalle tenebre alla chiarezza. E non pensate che sia il cammino di pochi versetti, è il cammino della vita. E non pensate che sia il nostro cammino che si risolve in un incontro di catechesi. È il cammino della nostra vita. Che ha bisogno di partenze, questo sì. Ha bisogno di slanci, questo sì. Ha bisogno di spinte, questo sì. Però è il cammino della vita. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. È bello questo fatto, vedete? Si può dire sì e si può dire no. Si può obbedire e si può disobbedire. Simon Pietro qui obbedisce. Ma si può anche non obbedire. Anche qui non diamo per scontata l'obbedienza. Chissà quante grazie non si ottengono per disobbedienza. Chissà quante grazie, quante volte ci è stato detto no getta al lato destro. E noi potremmo dire ma tutta la notte che abbiamo pescato. Ma adesso è mattino che devo pescare? Sapete noi pesci poi al mattino ci fanno in profondità. Invece di notte salgono un poco più a galla. Quindi di notte che cosa? Di giorno che cosa posso prendere? La sfiducia potrebbe portarmi a dire di no. La sfiducia, la stanchezza. E invece questo fatto no, di provare e riprovare, provare e riprovare. Sapete la cosa bella qual è? Chi è che qui sta provando e riprovando? Non è Pietro che sta provando e riprovando. È Gesù che sta provando e riprovando un'altra volta. E provare e riprovare è di chi spera, è di chi ama. Non a caso, vi ricordate, quante volte Pietro dirà vicino a Gesù dovrò perdonare? Sette volte. Gesù dirà non sette volte, ma sette volte sette. Quindi se è il primo a non farle lui, non sarebbe lui. Il primo a questo perdono, settanta volte sette. E questo, capite, questo sta facendo qui. È quello che sta ancora una volta provando e riprovando ancora una volta con il Papa, il primo Papa. è colui che gli ha detto su questa pietra di Figueroa la mia chiesa. E gli sta dicendo, davanti a questo sconforto, io vado a pescare, pesco un'altra volta. E sapete quante volte gliel'ha detto? Gesù è il non disperato. Io la domenica dell'ascensione, dissi questo durante la messa, e Papa Francesco l'ha detto l'altro giorno nella Catechesi, Dio non vuole stare senza gli uomini. Dio non vuole stare senza di noi. Ci ama così tanto che non vuole stare senza di noi. Ho letto una bella frase di un padre della chiesa, San D'Atanasio, mi ha sconvolto perché è bellissima. Ho detto così, lui ha usato dei termini in greco, Dio si è fatto sarcofago. affinché l'uomo diventi pneumatofaro. Cioè dice, Dio si è fatto sarcofago, no? Sarx, carne. Dio si è fatto portatore di carne perché l'uomo diventi portatore di spirito. proprio perché pesco un'altra volta. Sarà più bello dopo, non lo vediamo stasera, volevo concludere, però vuol dire che sarà per la prossima volta, dopo quando tre volte, mi ami più di costoro. la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità. Quindi vi dicevo, sì, effettivamente c'è l'obbedienza, vedete, l'ha gettata la rete, quindi veramente l'ha gettata. L'ha ascoltato, l'ha ascoltato, l'ha ascoltato. L'ha rinnegato, è vero, ma l'ha ascoltato. L'ha rinnegato, ma l'ha seguito. Ha potuto dire di no, non lo conosco, però stava in quel cortile. tutto quello, però, stava nel cortile. C'era, l'ha seguito, da lontano, ma l'ha seguito. L'unico modo per non rinegarlo era non seguirlo. L'unico modo per non sbagliare mettiamoli sotto la campana di vetro. E non sbaglieremo, ve lo assicuro, non sbaglieremo. ha obbedito, ha obbedito, l'ha buttata, ha obbedito. La città non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesce. Allora, quel discepolo che Gesù amava, l'abbiamo detto tante volte, quello che Gesù amava, sappiamo, però non c'è il nome, non c'è. Quello che Gesù amava, quello che Gesù amava, quel discepolo che Gesù amava, disse a Pietro, è il Signore. Ancora una volta, l'amore che riconosce. è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Questa è una scena un po' particolare, che ci racconta, vedete, anche, direi quasi, ce la fa vedere proprio con gli occhi, no? Tiene questa sorta di camiciotto e quindi se la strinse qui attorno ai fianchi e si butta per poterli in acqua, perché altrimenti con il camiciotto aperto così in acqua nuotando avrebbe gratificato. Siccome dice che stavano a 100 metri di distanza, Gesù, quindi comunque doveva fare un po' di nuoto, di bracciate per arrivare lì. Quindi l'abito sciolto gli abbia dato difficoltà. Però, vi ricordate, c'è un'altra scena dove un'altra persona si lega qualcosa intorno ai fianchi. È Gesù, quando lo aveva i piedi di scepoli. E quindi il fatto di legarsi qualcosa intorno ai fianchi. Si legò e torna ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca frascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Sapete pure com'è bello leggere? Il discepolo che Gesù amava lo riconosce, no? È il Signore. Simon Pietro che fa? Si getta in mare per arrivare nuotando da Gesù. Quasi come se l'evangelista qui volesse riscattare la figura di Pietro quando quel mattino correndo al sepolcro Giovanni corse più veloce. E Pietro lentamente. Invece adesso qui dice che chi va più veloce è Pietro che Gesù si getta in mare perché dopo gli altri arrivarono con la barca quindi finalmente una volta che Pietro arriva prima. Gli altri vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Quindi immaginate, no? Trascinando questa rete piena piena di pesci. Appena scesi a terra videro un fuoco di braccia con del pesce sopra e del pane. ha già preparato ha chiesto prima avete qualcosa da mangiare? Ma lui ha già preparato donna dammi da bere se conoscessi chi è che ti chiede tu gli avresti chiesto perché sgorgà acqua viva e quindi già l'ha preparato lui però gliel'ha chiesto ma lui l'ha preparato disse loro portate un po' del pesce che avete preso ora c'è bisogno anche del vostro lavoro però benedetto sei tu signore Dio dell'universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te perché diventi cibo di vita eterna frutto della terra dono e del lavoro dell'uomo io l'ho preparato però portate pure quello che avete preso voi San Agostino diceva così Dio che ha creato te senza di te non salverà te con te noi corriamo questo rischio molte volte no ci mettiamo così e aspettiamo lui fa tutto è vero però ci interpella ti ho detto pesca eh portalo anche un poco di questo che hai preso per condividerlo perché non è per te è per la condivisione ricordate quando moltiplicherei i panni Andrea maestro qui c'è un ragazzo che ti ricciunghi i panni e i pesci quindi vedete la condivisione avviene sempre perché c'è qualcosa la condivisione non nasce dal nulla perché Gesù vedete non fa nascere dal nulla la responsabilità nei confronti dei fratelli cinque panni e i due pesci non è niente non è niente ma quel niente nelle tue mani diventa tanto nelle mani di Dio però hai il coraggio di privartene avete mai provato a pensare lo sapete noi il bambino che tiene i cinque panni e i due pesci al bambino che gli era dati la mamma perché gli era dati dice vai la merenda sarà la merenda del pomeriggio però il bambino riesce a privarsene abbiamo il coraggio di privarcene voi noi avremmo detto fosse qualcosa vabbè facciamo metà te e metà me allora Simon Pietro salini la barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci Giovanni non ha detto di un circa centinaio di pesci è proprio specificato e se sta specificando c'è qualcosa vuol dire qualcosa di preciso e gli studiosi qui veramente dicono tante cose sapete c'è una scienza che si chiama se non erro gemmetria che in pratica attribuisce ai numeri dei significati dei valori ora secondo una delle interpretazioni soprattutto quella di San Girolamo è questa qui che 153 erano i pesci i diversi pesci che loro si conoscevano quindi ai tempi si conoscevano 153 differenze di pesci quindi dicendo che cosa vuol dire che ha preso l'università sta indicando l'universalità come vi ricordate nel Vangelo degli Arti degli Apostoli ma lettura siamo parti medie lamiti cioè erano le popolazioni che loro si conoscevano per dire tutti quanti quindi sta indicando qui che quella rete in quella rete c'è posto per tutti di questa differenza di pesci che tra loro sono 153 differenti sono tutti quanti ci sono anche altre interpretazioni altre interpretazioni che c'è 10 più 7 poi conta da 1 fino a 17 ti dà il numero 153 ed è il numero poi della pienezza però va bene però per dirvi quindi c'è qualcosa che qui Giovanni sta dicendo in questo 153 questa realtà proprio di pienezza e quindi in questa rete non ho detto una cosa Pietro lui ha detto vada a pescare non prende nulla Gesù dice pesca e pesca trova c'è la parola di Gesù e in questa parola di Gesù c'è posto per tutti no uno sia un altro no e benché fossero tanti la rete non si squarciò quindi non ci preoccupiamo quando a chiesa arriva anche qualcuno che non è dei nostri non si squarcerà non lo preoccupate dice ma lui non viene nel gruppo non fa niente non lo preoccupate ma quella che sta nel circolo così non ci preoccupiamo non si spezzerà la rete non romperà l'armonia se noi sapremo essere armonici non ci guasterà le uova nel paniere e se noi siamo in festa i discepoli giocheranno a vedere il Signore Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli stava domandagli chi sei perché sapevano bene che era il Signore vedete la Pasqua i discepoli non si erano accorti sapevano bene che era il Signore però avete visto il passaggio che hanno dovuto fare attraverso che cosa sono dovuti passare e non è sono Gesù è bene Gesù è lui va bene è quello che è fatto quando andavamo a scuola c'era un problema non è che arriva papà o il fratello maggiore e mi risolve il problema perché se mi risolve il problema il problema domani io lo farò lo sbaglio lo farò di nuovo se tu non mi fai capire il problema qual è perché segnavano il russo gli insegnanti quando c'era l'errore perché attraverso il russo subito salta l'occhio e quindi capisco vado subito lì dove c'è l'errore e cerco di capirlo ma adesso dobbiamo usare le sfumature di colore perché altrimenti il ragazzo si può offendere se tu usi il rossi poi arrivano i genitori e succede quello che succede Gesù si avvicinò prese il pane lo diede loro e così pure il pesce era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risolto dai morti contiamolo queste tre volte questa è la terza volta quindi ci sono due prima di queste a Maria no, no di Giovanni no, quella è ma sono nata di Luca no, quella è Luca nel cenacolo e sono tre e c'è ancora un'altra a Pietro e a Giovanni quando corrono a sepolcro anche se non lo vedono però vedono le cose vabbè lasciamo stare questo qua bene quindi sono tre qui dice che è la terza volta quindi sono quattro sono tre qual è le tre quali sono però è detto Maria di Magdala nel cenacolo senza Tommaso nel cenacolo con Tommaso e poi questa sarebbe la quarta però ha detto che questa è la terza volta quindi quale delle tre bisogna eliminare? quella di Maria di Magdala perché? perché ricordate che dicemmo che le donne non avevano valore testimoniale quindi vedete no, sta proprio raccolando Maria di Magdala che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risolto e la terza volta vedete in questo cammino ancora un nuovo come dicevo prima in modo diverso e in modo differente ci fermiamo qui perché adesso c'è faccia a faccia con Simon Pietro però lo vediamo una prossima volta se c'è qualche chiaramente qualche domanda condivisione riflessione pensiero diciamo da quando abbiamo sottolineato in questo periodo il discepolo amato non si sa chi è diciamo in varie interpretazioni però su questo Vangelo io amo molto la figura di Pietro Pietro il pescatore Pietro non Pietro il papa ma Pietro Simone Simone nella sua fase noto una cosa almeno è una mia riflessione personale il discepolo amato il discepolo amato da Gesù si accorge eccetera eccetera e ho sempre detto perché lo sento mio chi si sente amato si accorge per primo delle varie sfumature si accorge qui c'è stato la persona che ama sento il suo profumo però nel fatto che Pietro si si dà l'interpretazione perché forse il desiderio di di capire Gesù dopo il rinnegamento è il maestro lui si getta avanti io mi piace vedere queste due differenze Giovanni è il discepolo amato da Gesù Pietro è il discepolo che amava di più Gesù perché il fatto di andare avanti di andare avanti ripeto uno può dare l'interpretazione che vuole mi sembra quasi dire signori io non ho mai smesso di amarti nonostante la mia mancanza e lo slancio e guardare gli occhi di Gesù non è dire fammi capire se tu mi hai perdonato ma per dire io sono sempre colui che ti ha sempre amato e ne dà un po' di mostrazione a modo suo non andiamo a Gerusalemme maestro perché è così perché è sempre lui che cerca di tra virgolette di difendere questo Gesù questo maestro che lui amava mi piace vedere questo di Simon Pietro che tra gli apostoli era colui che amava di più Gesù poi c'è la differenza che Gesù aveva il discepolo amato e io la domanda è questa ho la domanda un'affermazione è bello vedere quest'uomo quest'uomo che nonostante la fragilità del rinnegamento fatto per tanti motivi pensando si che era arrivato a un qualcosa si è visto proprio così voler dire a quella persona nonostante che io ho sbagliato io non ho calato no tu dici però nel ragionamento che poi fanno mi ami tu io qui sai che cosa ci vedo dico quasi che Gesù stesse dicendo a Pietro tu mi ami come prima Pietro mi ami come primo e stai sereno così mi piace dare questa io credo che però dobbiamo fare attenzione a una cosa perché alla base del nostro essere dici cristiani non c'è il nostro amore per il Signore ma c'è l'amore del Signore per noi allora io credo che la tentazione più grande di Pietro è proprio questa forse quella di aver messo forse davanti il suo amore messo così davanti non si è stato conto che stava anche sbagliando e quello che forse Gesù gli voleva far capire fin dall'inizio è che io ti amo è quello che poi vedremo la settimana prossima per dire quanto poi lui si riconoscerà ti voglio bene quindi sai tutto e allora lì capisce lì gli dirà seguimi quindi questo mi sembra di dire che forse vedete anche per noi non è facile volere bene a qualcuno è facile amare è più difficile lasciarci amare provate a pensarci non è facile lasciarci amare perché vi ricordate l'abbiamo visto quando Gesù gli vuole lavare i piedi non mi laverai mai i piedi ma se non ti lavo non lavare parte con me noi pensiamo anche a questo gli slanci d'amore verso il Signore sì sono bellissime le crea dobbiamo fare però se li facciamo come risposta degli slanci d'amore che il Signore ha verso di noi quello sì cioè il nostro amore è una risposta dell'amore che lui ha per noi è una risposta di risoluzione di risoluzione perché l'abbiamo detto l'abbiamo detto sarà più chiaro quando faremo l'ultimo incontro vero che Pietro ha visto i miracoli i miracoli l'abbiamo detto non cambiano la vita i miracoli ci possono emozionare possono darci uno slancio possono veramente anche portarci a magnificare il Signore il miracolo ma non è detto che il miracolo provoca la conversione ciò che provoca la conversione è l'incontro con Cristo pure noi l'abbiamo avuto però noi non siamo diversi da Pietro nella situazione veramente del peccato eppure l'abbiamo incontrato allora ecco lì poi ci dobbiamo chiedere effettivamente Ernesto lo diceva adesso no quale Cristo ha incontrato perché vi ricordate l'abbiamo detto Maria di Magadala quale Gesù va a piangere al sepolcro donna chi cerchi chi cerchi questo è importante devo sapere chi sto cercando quello che mi dà una garanzia quello che mi dà un poco di pace e serenità quello che mi promette il paradiso o lo sposo l'amato vi ripeto ve lo dissi già noi Salmo 62 la tua grazia vale più della vita in quest'ottica capiamo i martiri e attenzione quando ascoltiamo in televisione noi i giadisti che loro sono martiri non sono martiri perché il martire non uccide l'altro il martire uccide offre se stesso non offre non prende la vita degli altri Gesù ha offerto la sua vita è morto lui per gli altri non ha fatto migli gli altri per lui per la causa è morto è morto Grazie. Noi abbiamo avuto un anno per riflettereci sopra, l'anno della misericordia, che chiaramente, come abbiamo detto, è finito l'anno giubilare, ma non è finita la misericordia. Allora, vedete, è bellissimo perché poi alla fine vi rendete conto che quello che stiamo leggendo nei Vangeli, cioè un passo richiama l'altro, uno illumina l'altro, è tutto collegato. Perché allora di questo Gesù veramente sono tutti gli aspetti, vedete, che lì l'ha raccontato e adesso qui con la parabola, adesso qui lo sta vivendo. Fino ad essere, come dicevamo, c'è tutto e porta lì. E da lì parte tutto. Allora ecco lì il segno della pecorella smarita che torna a casa, del figlio al podico che torna a casa, o meglio, del pastore che va a cercare la pecore, è lì che il pastore la sta cercando, è lì che il figlio al podico torna a casa. E lì questo colloquio è venito a pescare di nuovo, pescate di nuovo, è lì. E non quando ci esce l'Aureola. E' interessante, noi in questi giorni, noi stiamo leggendo la liturgia, il libro di Tobia. Il giorno martedì abbiamo detto, lunedì veramente Tobia è un uomo veramente buono, misericordioso, perché con lui sono un uomo di misericordia, no? Sepprire i morti in modo particolare. E lui dice, vicino al figlio, Tobia, lui si chiama Tobia e il figlio si chiama Tobia. L'altro contrario, il papà si chiama Tobia e il figlio è Tobia. Dice, noi non ci metteremo a tavola, va a vedere se da fuori c'è qualcuno che ha bisogno. E il figlio va fuori a cercare, quindi è una cosa che facendo spesso. Vedete la carità, la misericordia. Non se qualcuno bussa alla mia porta e gli apro la porta. Vado io a vedere chi ha bisogno. Va a cercare, torna il figlio e dice, papà, c'è uno morto. Lo va a prenderlo, lo porta sopra in camera, perché siccome era il giorno di festa e non potevano seppellire. Gesù fu seppellito subito, 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 guardate perché era la parasceve, stava per iniziare nella grande festa di sabato, la Pasqua. E quindi subito lo vanno a seppellire. Quindi Tobia se lo porta sopra e gli aspetta il giorno dopo per poterlo seppellire. Infatti il giorno dopo lo seppellisce, però succede una disgrazia. Sì, succede dopo averlo seppellito. Siccome è sera, si è stancato, dormendo là fuori e l'uccellino, qua, gli escrementi sugli occhi, diventa cieco. Succede una cosa particolare. La moglie sta lavorando, lavora nella catatrice di lana. I proprietari della moglie gli regalano un capretto. E allora a un certo punto è cieco, sente il capretto belare, dice, ma non è che l'hai rubato. Vedete, ha fatto sì, è un uomo di misericordia. Però intanto poi è il dubbio così, è un poco cattivello nel giudizio. Però mi sono perso perché ero partito da questo esempio. Eh no, va bene, comunque va bene. Sì. Allora, per l'ebreo il nudo non esiste mai. Togliato. Per meno di avere il perizoma. A meno di avere il perizoma. E beh, semplicemente ecco, perché qui fa riferimento a Pietro, perché dopo alla fine di questo capitolo qui gli dirà un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Quindi c'è tutto un riferimento di simbologia anche al vestito, proprio il fatto di essere vestito. E allora qui, comunque ripeto, è svestito. Degli altri non fa riferimento perché stando sulla barca, pure noi quando andiamo sulla spiaggia, quando possiamo essere composti, però anche a spiaggia comunque ci mettiamo un po' più in disabillé. E quindi è scadore, quindi teneva canottino, teneva sorta di camiciotto, così. E quindi indica semplicemente il suo atteggiamento di essere svestito, che può essere anche riferimento al fatto che tu non hai un abito perché l'abito che tenevi non ce l'hai più, quello nei confronti del maestro. Perché tanto è vero sentire il bisogno di rimetterselo per andare davanti al maestro. Ma c'è un'altra cosa bella, vedremo dopo, che nessuno l'ha notato. A un certo punto, ci avete visto, qualche volta dice Simone, Simon Pietro, Pietro. Dopo ci sarà Clodo che farà con Gesù, Gesù lo chiamerà poi diversamente. No, uno di questi due nomi userà. Grazie. 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 Grazie.